8.45 In Italia sono le 3 di notte E noi siamo imbriaghi E adesso te lo massi così smembola Vedi? Così si smembola Siamo arrivati Comunque tante cicce stasera Puttana a merda Puttana a merda Ci siamo fottuti un po' però Ma sì va bene Meglio così Sì 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 Ed ecco la stanza Questa è la reggia Contenente Personaggi Si interagisce Si fa i froci Si fa i gay che si dorme finiti Dormi dormi Sandro dorme C'era appena tornati dal meeting With our friend firm in Canada We are here at home For Have a dinner And eat some food Mangiamo una sciocchezza Una sciocchezza Una sciocchezza Qua Sono meno La bella è che c'è parecchia ciccia Quanta ciccia? Quanta ciccia Parecchissima C'è una cosa Inveloci È il pisello duro Inveloci Ho l'inciso che mi arriva Mi dico A livello dei pettorali Da quanto duro Può essere C'è una cosa Spettacolare Qua sono le Nove Invece a casa Sono le Tre Le tre E zero sei Femme 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 Io ho fame Sciocchezza Mangiare Cheeseburger Hamburger Al cesso Un bel cesso Unica roba che non ti Non c'è da un cazzo Questa stanza Ovviamente da due Non da quattro Che pensate Che non dormiamo Questa stanza era due Di me è massi Ma letto matrimoniale a testa Per fare Non ho mai visto Letto matrimoniale a testa Letto matrimoniale a testa In modo Quasi sono tanti Trip Club Per A soli 20 dollari Fare Qualsiasi cosa Ah Che se non fia Le cini dei box Abbiamo anche Dove Ah Sto qua Sono i mucani Altri Vediamo Come c'è la pubblicità Assunta I box Non si vede Niente Questi sono i nostri Questi sono i nostri All pass Possiamo andare Pinciare Bere C'è anche il pass Blowjob Giri E diventa pass Blowjob Pass normale Pass blowjob E pass normale Dipende Cosa hai bisogno Cosa hai intenzione Di fare Esatto Se vuoi suonare Se vuoi suonare Oppure se vuoi fare Il DJ in compa Esatto Gai 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 L'omosessualità Fatta persona Questo è il Canada Siamo qui C'è anche il tuo cugino Guarda la moto Non sa fare un salto Siamo qui Porta su Gai 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 Stai a stare fermo E inquadrare E muoverti lentamente In questa maniera Hi Hanno dipinto Hanno dipinto di nuovo Un cimitero Allegria E i due Nowski Seduti su una tomba Che macchie ha guardato Il giornale Degli Stati Uniti Ha detto che Hanno ucciso qualcuno E' proprio noioso E' proprio noioso E' proprio noioso E' quello Vai Vai Ah questa è una MILF a ore 12 Sì ma è una MILF un po' Marderietra è sempre azzardata MILF a ore 12 È un ruolo 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 Ha il camioncino styla Com'è che si zooma con questo Con questo Però non zooma tantissimo In più fa da cagare È un camioncino styla È un ruolo